Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A11 ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze Impruneta. A causa di due frane sulla statale 12 della Betone e del Brennero chiuso in entrambe le direzioni il tratto in località Borgo Ammozzano e sulla statale 64 Porrettana chiuso sempre in entrambe le direzioni il tratto tra Pavana e Ponte della Venturina. A Firenze in viale Piombino e in viale Pruria fino al 23 marzo per lavori restringimenti di carreggiata a tratti. Borsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!